Ciao a tutti, sono Marco Chirin e sono un paleontologo all'Università degli Studi di Perugia. La geologia. La geologia è quella scienza che si occupa di studiare la formazione, la struttura e l'evoluzione del pianeta Terra. Sì, perché il pianeta sembra statico, ma in realtà non lo è affatto, è in continua attività. Nuove rocce si formano continuamente nelle aree vulcaniche, rocce preesistenti vengono spinte a centinaia di metri di profondità e si trasformano in rocce nuove. Nel frattempo sulla superficie terrestre la crosta viene sgretolata dagli agenti atmosferici formando quei granelli che costituiranno gli ingredienti per la formazione di nuove rocce. È il cosiddetto ciclo delle rocce che va avanti sul pianeta da miliardi di anni e che è tuttora in corso. Per comprendere questi aspetti è fondamentale fare uno sforzo di immaginazione perché dobbiamo fare un viaggio nel tempo, nel cosiddetto tempo profondo, quello delle migliaia, dei milioni di anni, perché è questo il tempo con cui si sviluppano i processi geologici. In questo viaggio, quello che potrete ripercorrere al Geolab di San Gemini, raccontiamo le fasi più antiche dell'evoluzione della Valle Incantata e delle montagne circostanti, di quella fase in cui le rocce che costituiscono l'Appennino Umbro Marchigiano si sono formate sul fondo di antichi oceani che un tempo occupavano questi territori. Quindi vi aspettiamo al Geolab di San Gemini per il primo capitolo di questa lunghissima storia.